Quattro ingredienti, astice, tartufo, pomodoro e picchiettini. Ce la fai e fammelo un piatto? Molto semplice. Prendiamo i nostri motorini e li tagliamo a metà. Mi raccomando, adesso noi abbiamo preso quest'astice che non ha l'elastico su una chela, potrebbe farci male. Un'altra volta fatto questo, il nostro liquido lo mettiamo all'interno. Non spregate niente, eh! Ora metteremo subito i picchiettini e cuoceranno insieme al nostro astice. Prendiamo un pochino di brodo di vongole e cozze. Tra dieci minuti il piatto è pronto e vi faremo vedere la nostra squisitezza aggiungendo il tartufo. Qui abbiamo fatto oggi astice con i picchiettini, pochi picchiettini e tanto astice. Adesso andiamo all'impiattamento, guarda che bello! Questo stava in fuorigioco, il nostro tartufo. Stavamo all'assai. Ragazzi, picchiettini al dente, perfetto! Mi raccomando, ditemi nei commenti altri 4 ingredienti e arriverà la nuova ricetta. Venite all'osseria del tratto. Grazie!